Pasquale D'Arienzo e Donato Bovi sono due giocatori della Battipagliese, a comunicarlo ufficialmente la società bianconera. D'Arienzo, classe 1981, è un difensore centrale che ha vestito le casacche di Ascoli, Potenza, Battipagliese, Angri, Cosenza, Turris, Matera, Pomigliano, Manfredonia, Bisceglie e Sansevero. Bovi, Battipagliese, classe 1991, è invece un centrocampista centrale cresciuto calcisticamente nella Salernitana ed ha vestito le casacche di Gelbison Cilento, Battipagliese e Polisportiva Santa Maria. Nella giornata di ieri, inoltre, la Battipagliese ha annunciato l'ingresso in società dell'imprenditore Francesco Ferraiolo, che assumerà l'incarico di direttore generale della prima squadra e della formazione Juniores.